Mi sentite? Sono qui a un ristorante di Alessund, carino, ieri mi ero rimbalzato e sono andato a un posto strano, questo è particolare perché sono tutti questi tavolini separati da queste colonne, soprattutto non vedo o non vedo, è una situazione molto intricata, mi piace, praticamente tu devi ordinare al banco, paghi, ti prendi la birra che ti sei scelto e poi ti portano da mangiare, mi sono trovato questo tuo tavolinetto piccolino e vabbè. Facciamo una zoomata a letto dal bilancio, ci tengono molto ad avere cose vecchie in giro.